Eccolo il nodo perché secondo me è il nodo perfetto per la cravatta, ce ne sono tanti ma io vi insegnerò proprio quello classico e questo che secondo me vi toglie da tutti gli impici. Si chiama Windsor o Scappino perché Domenico Scappino che fu il sarto del re d'Italia lo inventò per primo, poi rubato da un sir inglese che era Sir Windsor che lo rese famoso poi a tutti i dendi del mondo. Allora si parte sempre un lembo più corto a questo punto un po' più vicino al collo quindi diciamo quarto bottone al massimo quindi cosa facciamo? Incrociamo e a questo punto facciamo subito un'asola per cui facciamo entrare la cravatta e la facciamo uscire subito di modo che faccia questa specie di nodo. Poi la facciamo passare dall'altro lato e facciamo la stessa cosa quindi quando ce l'abbiamo dall'altra parte guardate benissimo dove io tengo il pollice devo sempre tenere schiacciato dove devo fare il nodo. La facciamo entrare ok e facciamo l'altro incrocio quando abbiamo fatto l'altro incrocio a questo punto faremo fare un passaggio sopra il nodo sempre tenendo fermo poi usiamo la stessa tecnica che abbiamo usato per fare il nodo della cravatta normale. Quindi lo facciamo passare da sotto da sotto a sopra ok e qua appunto avremo sempre la nostra asola in cui rinfileremo la punta. A questo punto tiriamo e abbiamo fatto un nodo Windsor. Adesso abbassiamo un'altra cosa come vedete a questo punto il nodo Windsor è completamente simmetrico più bello da vedere. Qua potete creare una dimensione diversa a secondo di come volete annodarlo quindi se potete annodarlo più stretto e farlo fare una dimensione più stretta e poi fate fare anche questo giochetto quindi spingere dentro parte della cravatta e stringerlo di modo che faccia questa fossettina che ad alcuni piace quindi non è obbligatorio ma ad alcuni piace. Il Windsor è il nodo che vi toglierà da tutti gli impicci e vi farà sembrare sempre elegantissimi. Un saluto da Fabio ciao.